ok ciao a tutti bentornati in questo nuovo gameplay dell'angolo del game siamo di nuovo qui in monopoli madness dove adesso potenzialmente incontri la vicina di chi benissimo ho vinto la precedente partita quindi ottieni se proprietà prima di tutti regole standard dieci minuti vediamo che succede oggi provo con l'atleta si può scegliere il colore interessante io vado con questo dai il cappello ancora bloccato ci sono vedete mappatura invertita predefinita alternato dorsali che succede predefinita perché tanto connessione in corso sblocca ah no 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 si arriva bene ok e quindi potenzialmente bulldozer guida un bulldozer e semina il caso in città il primo edificio che colpisce viene declassato perfetto oi è un'altra cittadina proprio vediamo che succede tiene sia proprietà prima di tutti ok si inizia con il ricercare ricercare i soldi e aspettare che ci sia la possibilità di acquistare quindi l'asta a inizio dov'è? dov'è? casa venduta casa venduta casa venduta la scelta la scelta casa venduta non suucido la scelta e situa rilascome come è fine dell'asta per la casa attenzione buon compleanno non ho soldi proprietà venduta e ancora non è chiaro come funziona ogni cosa inizia l'asta inizia 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 l'asta benissimo dovrei aver vinto e credo di aver impiegato meno di 10 minuti vinci vendi proprietà l'asta nuovo ok allora la puntata finisce qui penso che farò puntate così brevi con una mappa per volta d'ora in poi ciao a tutti grazie 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 grazie